Un saluto amici del centro maritaliano. L'ondana di gelo aggiunta sulla nostra penisola ha portato un brusco abbassamento delle temperature accompagnato dalla neve che è scesa fin sulle pianure del centro nord. Ecco alcune immagini della neve su Roma, iniziata a cadere nella tarda serata di ieri e che ha lasciato al suolo accumuli anche superiore ai 10 centimetri. La neve in giornata cadrà comunque ancora su Marche, Abruzzo, Basso, Lazio, fino a quote prossimo al piano. Maltempo anche sulle regioni peninsulari del sud con neve oltre 200-400 metri. Nel corso dei prossimi giorni il maltempo insisterà ancora a lungo l'Adriatico al sud ma con fenomeni in progressivo esaurimento tra martedì e mercoledì. Attenzione al freddo che sarà molto intenso special al centro nord con temperature minime localmente anche inferiori a meno 10 gradi. Solo durante gli ultimi giorni della settimana è atteso il rialzo delle temperature ma di questo parleremo nei prossimi video e con i nuovi aggiornamenti. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sul nostro sito o sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Mad Italiano.